La città e la provincia di Salerno è un fenomeno molto diffuso che sfrutta la voglia di questi cittadini extracomunitari di venire in Italia in posizione regolare, legale. Abbiamo visto anche quelle operazioni fatte di recenti dai carabinieri che ci sono purtroppo mille forme di sfruttamento della presenza degli stranieri in questo paese. Questa è la prima, la più odiosa, forse una delle più odiose perché ovviamente sfrutta per un affare notevole questo desiderio di regolarizzare la propria posizione. Quindi stiamo parlando di gente che vuole venire qui a lavorare. Stiamo parlando di un fenomeno comunque diffuso. Noi abbiamo eseguito questa ordinanza stanotte, il fenomeno è molto diffuso, quotidianamente ci lavoriamo in tutta Italia, monitorando i contratti che vengono fatti, le autorizzazioni, le richieste, i permessi soggiorni richiesti sulla base dei contratti che vengono fatti in maniera apparentemente regolare. Devo dire che nel corso delle operazioni di stanotte si è stata anche molta documentazione che ovviamente ora verrà verificata, per cui effettivamente abbiamo ancora un grosso lavoro da fare anche su questa operazione che non può ritenersi conclusa. Grazie a tutti.